Sì, lei è un peccatore di carne! Sì, lei è un peccatore di carne! Maustico che ella, questa sera, voglia rimetterle tutti i miei peccati, con questo senzale, certamente, mi dica, innanzitutto, cosa le devo perdonare? Ma io non posso confessarmi così, scuscoli, e i miei peccati deve ascoltarli solo lei. Ma come si può fare? Ci confesseremo in segreto, ma dica almeno i peccati più leggeri. Ma non posso, so che lei pecca di carne! Ma lei potrebbe avere delle roglie da sua santità, se ne è un caso confessasse in pubblico. Si preoccupi, la curia vaticana ha un grande potere da questo punto di vista, ma non a questi livelli, ma ad ogni livello. Allora, non vuole dire il peccato più leggero che ha fatto in questo periodo. So che lei pecca, pecca moltissimo. Eccellenza, passiamo la palla al conduttore dello spettacolo. Allora, la palla è stata passata a me. Allora, grazie, grazie, grazie del filo. Ci dia più filo per piacere, più filo. Ritengo che la palla sia sufficiente per lei, non ha bisogno di altre palle. È sufficiente? Ecco, una no. Ma, eh, eh, ce ne voglio cinque. Non spesso con questo tipo di palla, va bene? Sì, sì, ringraziamo, signor Casanova. È stato un onore per te essere intervistato da uno showman come te. Grazie. No, fino adesso veramente non abbiamo avuto il teletro. No, non l'ho intervistata, non l'ho intervistata. Eccellenza, eccellentissima. Sì, ci siamo solamente presentati. Allora, una benedizione da parte del Cardinale Aiello. Un applauso, signori. È piacere.